pronti a fare bingo cari capricorno perché ma perché il transito di urano per quanto vi riguarda avverrà in sfolgorante trigono e segnerà molto probabilmente l'avvio di un nuovo splendido rivoluzionario ciclo della vostra vita un po a tutto tondo nel lavoro nelle finanze ma soprattutto in amore i cambiamenti in questione tra l'altro potrebbero manifestarsi già da questi giorni nonostante la vostra probabile diffidenza perché voi appartenete a un segno che per natura raggiunge i propri prestigiosi traguardi passo dopo passo e che sa che ogni miglioramento è frutto di un prolungato impegno ma questa volta dovrete probabilmente ricredervi perché la novità storica per voi potrebbe davvero arrivare dalla mattina alla sera in particolare se avete il cuore libero il transito di urano nella vostra quinta casa astrologica potrebbe coincidere con un incontro inatteso scombussolante spiazzante forse con una persona completamente diversa da quella che avreste sognato per voi o magari l'incontro potrebbe avvenire in circostanze curiose e inusuale single o impegnati che voi siate comunque fra le lenzuola sarete quasi sicuramente protagonisti di magnifiche rappresentazioni fornicatorie che potrebbero anche attirare a voi un plaudente pubblico di cicogne esplode inoltre la vostra creatività brilla all'ingegno cresce il dinamismo voi tirate fuori un po più di faccia di glutei evviva